Tre città, ventisette concerti, trentacinque ore di musica, mille artisti. Il tretta opera festival di Bitonto, giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione, riparte da questi numeri, a testimonianza della crescita della manifestazione. Il festival è stato presentato nella sala del colonnato della città metropolitana di Bari dal sindaco di Bitonto, Michele Abaticchio. Il tretto opera festival per noi resta un passo importante in un piano strategico generale di promozione del nostro territorio, un territorio che aspira a diventare sempre più turistico, sempre più a misura d'uomo. L'edizione 2017, che porta il nome del più famoso compositore bitontino, Tommaso Traetta, è partita lo scorso 24 marzo con un'esecuzione del Requiem di Mozart nella cattedrale di Bitonto, realizzato in collaborazione con l'orchestra sinfonica della città metropolitana, AmiFest Japan Apulia Festival di Tokyo, Tokyo Music Association, Settimana Santa. Queste coproduzioni daranno un respiro internazionale al festival per tutto l'anno. Ancora quest'anno, oltre al rapporto con tutte le città pugliesi, prosegue il processo di internazionalizzazione del festival, quindi saremo ancora una volta a Tokyo, dal 26 al 29 ottobre, all'Istituto Italiano di Cultura. Lì esiste un festival gemello di Tretto Opera Festival che si chiama Japan Apulia Festival, quindi proprio sui nostri autori, ed eseguiremo musica di Traetta, ma non solo, anche di Van Westerhout, anche di La Rotella, eccetera. E poi, la novità di quest'anno, il rapporto con la Spagna, 27-28 maggio saremo a Madrid per portare ancora una volta lì i nostri autori. Grazie a tutti.